eccoci qua benvenuti sul mio canale io sono johnny break oggi andremo a parlare del canone rai che ormai da un po di tempo hanno inserito nella bolletta dell'energia elettrica come tutti voi sapete il caro renzi ha fatto questa questa legge allora dal mio punto di vista innanzitutto vi dico già subito che sono praticamente contrario al pagamento del canone rai per il semplice motivo che io se voglio pagare un abbonamento preferisco mettermi sky o mediaset premium dove io pago e mi danno un servizio a pagamento il canone rai dal mio punto di vista non è un non è un canone non è un canone che va pagato perché comunque stiamo parlando di una tv piena zeppa di pubblicità come ben sapete mediaset è privata mediaset dal mio punto di vista è molto migliore della rai per quanto riguarda i contenuti ovviamente le pubblicità ci sono come giusto che sia per una televisione non a pagamento allora finito questo discorso come avete visto dal titolo del video c'è scritto come non pagare il canone rai in modo legale allora come come bisogna fare innanzitutto bisogna sbarazzarsi dei semplici televisori che avete a casa o ve ne sbarazzate oppure fate in modo che il ricevitore integrato venga disattivato cioè voi attaccando l'antenna il cavo coassiale dell'antenna e facendo la ricerca non dovrete trovare canali come vedere la televisione senza pagarla potete praticamente collegare direttamente un piccolo computer un computer desktop di quelli piccoli come lo vedete nella nell'immagine adesso è praticamente collegato ad internet potete vedere tutto quello che volete potete vedere la rai potete vedere mediaset potete vedere altri programmi altri canali potete vedere youtube potete vedere tutto è praticamente trasformate insomma il televisore in un in un computer multimediale se non vi aggrada questa soluzione di avere un computer vicino al televisore potete optare per l'opzione di acquistare un televisore smart come li chiamano insomma gli ultimi televisori che danno la possibilità di collegarsi ad internet e alle pagine web di avere un browser all'interno ovviamente è la stessa cosa dovete praticamente disattivare il ricevitore del segnale digitale fatto questo presentate praticamente una domanda all'agenzia delle entrate dove scrivete che non possedete un impianto insomma non siete in grado di ricevere il segnale digitale terrestre quindi volete sonerarvi dal pagamento del canone allora tutto quello che ho detto c'è scritto qua come c'è scritto camera ai paga solo chi ha la tv esclusi pc e tablet quindi i computer e i tablet non pagano il canone rai pc si intende un monitor con la possibilità di collegarsi a internet e questo come ho detto prima lo possono fare anche gli smart tv facendo quel semplice procedimento di modificare di modificare il ricevitore detto tutto questo molto probabilmente io credo che se cambierà insomma se il governo cambierà senso che non ci sarà più questo governo molto probabilmente cambieranno anche leggi e molto probabilmente verrà anche cambiata questa cosa del canone perché a mio a mio avviso è praticamente una truffa legalizzata per poter pagare un servizio che comunque non è tale bene se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un piace e iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati su altri nuovi video molto interessanti e è stato un piacere un saluto e un abbraccio dal vostro caro johnny break ciao ciao